La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo. Anche gli agricoltori italiani sono finalmente, direi, sul piede di guerra. Meglio tardi che mai, direbbe qualcuno. Beh, questo dipende, se tutto questo tempo è servito agli agricoltori italiani a fargli capire che all'interno dell'Unione Europea non c'è soluzione ai loro problemi. Possono soltanto rimandarli come fanno i balneari con la direttiva Bolkstein, ma prima o poi l'Unione Europea raggiungerà il proprio obiettivo, che è quello di distruggere totalmente il comparto. Perché? Perché le grandi multinazionali che si muovono dietro alle istituzioni europee hanno bisogno di sostituire il cibo prodotto dagli agricoltori con la carne sintetica, con le farine a base di insetti. hanno bisogno di utilizzare i campi agricoli per fare dei campi per fotovoltaici. Quindi all'interno dell'Unione Europea il comparto dell'agricoltura non può sopravvivere. Io non credo però che gli agricoltori possano dirsi sorpresi di tutto questo. Io ero in piazza con i forconi circa dieci anni fa e i problemi erano gli stessi. In questi dieci anni non è stato fatto nulla per risolvere i problemi sollevati all'epoca dagli agricoltori. Anzi, le nuove direttive europee, il famoso PAC, da non confondere col PAC napoletano, anche se molto simile nella sostanza. Il PAC dell'Unione Europea sono le politiche agricole comuni, che non fanno che andare contro quelli che sono gli interessi degli agricoltori. Oltretutto che la politica abbia sempre dimostrato disprezzo per la categoria, lo vediamo anche dai ministri espressi in questi anni. Abbiamo avuto prima l'annunzia del Girolamo, poi passata a fare la subretta ballando con le stelle, perché era la moglie di... Forse molti di voi si saranno dimenticati, ma sicuramente non gli agricoltori, che nel 2010 il governo firmò il Green Corridor. Quando c'è la parola Green dovete sempre cominciare a tremare. Questo avveniva già nel 2010. Quando dietro la parola Green Corridor, ossia Corridoio Verde, si intendeva la possibilità di far arrivare prodotti agricoli liberamente dall'Africa, soprattutto dall'Egitto nel nostro paese. Questa era una vera e propria condanna a morte per gli agricoltori italiani già all'epoca, perché non si può competere ovviamente con la manodopera a basso costo dei paesi come l'Egitto, ma soprattutto possono utilizzare anche alcuni fitosanitari che in Italia e in Europa sono giustamente vietati. Quindi una concorrenza praticamente impossibile per i nostri agricoltori, perché già all'epoca avevano firmato la condanna a morte del comparto.